Salve a tutti gli affezionati al canale Artlive 2.0. L'oramai soprannominato monolito di Phobos è un grande oggetto sulla superficie della luna di Marte. La struttura gigante è alta 90 metri, solo 3 metri in meno di quello del monumento della Soto della Libertà a New York. Un'altra struttura dall'aspetto simile può anche essere vista sulla superficie di Marte. Ma di questa struttura inspiegabile trovata sulla luna marziana di Phobos e i misteri che si celano dietro questa luna, ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. Il monolito di Phobos è una grande roccia sulla superficie della luna di Marte Phobos. È un masso di circa 85 metri di diametro. Un monolito è una caratteristica geologica costituita da un unico pezzo massiccio di roccia. Anche i monoliti si trovano naturalmente sulla Terra, ma è stato suggerito che il monolito di Phobos potrebbe essere un pezzo da impatto o persino una struttura aliena. Il monolito è un oggetto luminoso vicino al cratere di Stikei, descritto come un masso di dimensioni edili che proietta un'ombra prominente. Quando la navecella spaziale Mars Recognizer Orbiter stava mappando la piccola luna di Marte Phobos e rimandò le sue incredibili immagini della piccola luna a forma di patata al satellite terrestre, gli ufologi ebbero una giornata campale parlando della misteriosa struttura che era chiaramente visibile sulla superficie di Phobos. In bella vista, un grande oggetto rettangolare ricorda senza dubbio un monolite artificiale. Niente nelle vicinanze ha una forma o dimensioni simili, quindi la domanda è che cos'è, qual è il suo scopo e chi l'ha messo lì. Le caratteristiche della superficie inspiegabile, in quanto numerose scanalature situate su Phobos, meritano un'attenzione speciale secondo i ricercatori. Varie teorie cercano di spiegare il misterioso monolite sul satellite marziano accumulato nel corso degli anni. Il famoso scienziato dottor Isaac Esimov ha scritto una storia in cui ha suggerito che Phobos era una nave aliena abbandonato in un lontano passato, catturato dalla gravità del pianeta rosso. Le origini della luna di Marte continuano ad essere molto controverse. I scienziati non sono d'accordo con il significato o la rilevanza di alcuni aspetti che costituiscono le diverse teorie. Questa discordia è emersa principalmente perché nessuna luna assomiglia a nessun altro satellite nel nostro sistema solare. L'esistenza ha sconcertato gli scienziati fino al punto di esaurirsi. Su questo satellite si cellano vari misteri, in particolar modo sulle missioni fatte. Il programma Phobos era una missione spaziale senza equipaggio, composta da due sonde lanciate dall'Unione Sovietica, per studiare Marte e le sue lune, Phobos e Deimos. Solo una delle sonde è arrivata su Marte, a pochi giorni prima che dovesse atterrare, ha inviato alcune foto misteriose al controllo della missione prima di rimanere offline per sempre, a causa di un fallimento critico. L'orbiter di Marte aveva restituito 38 immagini con una risoluzione fino a 40 metri, prima che lo strano evento causasse un fallimento e si perdesse per sempre. Le prove, cospirative, suggeriscono un possibile incontro alieno. Phobos 1 ha funzionato fino a quando non si è verificato un'imprevista non comunicazione il 2 settembre del 1988. L'incapacità del controller di riprendere i contatti è stato dovuto a un errore del software caricato il 29 agosto, che aveva disattivato i propulsori di assetto, perdendo il suo orientamento sul sole. Non potendosi orientare correttamente, le batterie si esaurirono. Le istruzioni del software facevano parte di una routine che veniva usata durante test a terra e normalmente sarebbe dovuta essere rimossa prima del lancio. Tuttavia il software era contenuto nella memoria PROM e la rimozione del codice avrebbe richiesto la sostituzione dell'intero computer. A causa dei tempi di lancio molto stringenti, gli ingegneri decisero di lasciare la sequenza di comando pensando che non sarebbe mai stata utilizzata. Tuttavia un singolo carattere sbagliato nella sequenza di aggiornamento causò l'esecuzione di questa routine con la seguente perdita della sonda. In seguito abbiamo la missione Phobos 2, che è stata lanciata il 12 luglio del 1988 ed è entrata in orbita il 29 gennaio del 1989. Phobos 2 ha funzionato correttamente, raccogliendo dati sul sole, sul mezzo interplanetario, su Marte e Phobos. Phobos 2 ha studiato la superficie e l'atmosfera di Marte ed ha restituito 37 immagini di Phobos con una risoluzione fino a 40 metri. All'interno delle immagini era incluso un'immagine spiegabile di quello che sembrava essere un UFO sulla superficie di Marte. Gli scienziati sovietici hanno cercato disperatamente di ristabilire la comunicazione con la loro nave, ferita per molte ore ma senza successo. Poi, all'improvviso, tutti gli sforzi per guadagnare il comando svanirono mentre l'immagine finale appariva lentamente sugli schermi nel profondo spazio. Tutta l'attenzione era ora focalizzata su quell'anomalia. Nonostante le richieste da parte di coloro che guidano la missione di occultare il fallimento e la successiva scoperta, trapelarono notizie sull'anomalia. Da allora è stata rilasciata un'immagine. Tuttavia, pochi agenti sovietici si sono fatti avanti con provi officiali o dati conclusivi sulla missione. Da quello storico evento, le agenzie espansiali di tutto il mondo hanno finanziato silenziosamente esperimenti straordinari, inviati insieme a missioni di successo, come il Mars Global Survey, Mars Express e Mars Recognition Orbiter. Con la speranza di scoprire il mistero dell'anomalia di Phobos, questi esperimenti segreti possono fornire i dati necessari per spiegare l'evento del 1988, o confermare l'esistenza di una forza aliena che protegge il monolite. Gli astronomi non hanno esitato a offrire rapidamente una spiegazione sulla misteriosa struttura che vede gli ufologi grattarsi la testa. Secondo astronomi e specialisti in immagini satellitari è solo un'altra roccia extraterrestre, un'anomalia fisica come ce ne sono in altre parti del nostro sistema solare. Come già detto in precedenza sulla teoria del famoso scienziato Isaac Esimov, Anche nel 1966 l'astronomo Carl Sagan e l'autore russo Slovowski sostenevano che Phobos potrebbe essere un satellite artificiale di Marte, proprio come la Luna sul pianeta Terra, e che questa piccola Luna marziana, proprio come la Luna terrestre, è vuota all'interno. Il pianeta rosso e quindi anche quello che gira intorno ad esso ancora oggi rimane un mistero. E tu cosa ne pensi? Grazie per l'attenzione e noi ci risentiamo alla prossima. Grazie per la visione!